Sono cominciato le comparsate per cercano un comandante dei vigili però con la patente Con la patente e anche con l'italiano, quindi sono fuori tiro Fanno il doppiaggio però la caratterizzazione rimane quella quindi se non cercano un napoletano non ci sto Siamo partiti così al modo nostro, stiamo parlando di Don Matteo tu da adesso sarai anche religioso Io sono cattolico, sono anche praticante e penso che comunque è un orgoglio della città avere uno sceneggiato, invece di parlare di fiction uno sceneggiato come si diceva una volta in una città La sceneggiata napoletana No, uno sceneggiato, quelli di Bolchi per intenderci questo non è proprio di Bolchi, è un'altra cosa è un onore, a noi ci impegnerà come polizia municipale Sicuramente, no Anche le multe, anche le multe se servono No, sto scherzando chiaramente